Buonasera a tutti e benvenuti al 132esimo webinar gratuito della serie Dialogo con gli autori. Io sono Rosa Tummolo, direttrice del Giardino dei Libri. Buonasera, io sono Giulia e per il Giardino dei Libri mi occupo di comunicazione. Bene, allora questa sera parleremo di un argomento che personalmente mi ha incuriosito molto. Come diventare invisibili, strategie per sparire fisicamente, virtualmente e fiscalmente. E ne parleremo in diretta con il nostro ospite della serata, Francesco Larmenni. Eccoti Francesco, ciao, è veramente un piacere averti qui come ospite del Giardino dei Libri. Grazie per aver accettato il nostro invito. Ciao Rosa, ciao a tutti, grazie mille per questo invito, un abbraccio grande a tutte le persone che ci stanno seguendo in questo momento. Bene, senti Francesco io ti vedo che sei in ottima forma e ci dici da dove sei collegato questa sera? Sì, io vivo, sono collegato dal Trentino, non vivo sempre in Trentino, alcuni momenti dell'anno sono, sto all'Isola Canaria, sull'Isola di Fertaventura, ma in questo momento sono nel mio gelido Trentino. Bene, allora senti ne parlavamo prima, io ti voglio aggiornare sul numero degli iscritti che sono veramente tanti, sono pensa più di 5.000 e abbiamo controllato poco fa e sono esattamente 5.390, questo mi fa molto molto piacere. Anche a me, anche a me fa molto piacere, sono molto contento, evidentemente il tema sembra essere interessante e quindi questa sera cerchiamo di raccontare un po' di tecniche, strategie e anche i motivi per cui ha senso imparare a diventare invisibili. Bene, senti Francesco, prima di proseguire con la serata e darti la parola, voglio dirti che al momento il tuo libro, eccolo qua, è primo nella nostra classifica dei libri più venduti dell'ultimo mese, sei in primo in top, la classifica del giardino dei libri. È davvero un traguardo molto importante, in realtà l'avevo visto questo pomeriggio che era in prima posizione e avevo messo anche una story su Instagram, però a questo punto è molto interessante, sono molto contento e anche un po' un successo un po' inatteso per me, che sono un piccolo autore che ha scritto 4 libri fino adesso, quindi sono molto contento, sono anche molto sorpreso ma molto contento. Bene, senti a proposito di sorprese, abbiamo raggiunto il traguardo delle mille copie vendute sul giardino dei libri e bisogna tenere conto che il tuo libro è uscito solamente un mese fa, giusto? Sì, c'è stata questa cosa particolare, racconto un brevissimo aneddoto, è uscito il 28 di ottobre e io ero in montagna quella mattina e mi ha chiamato la casa elettrice e mi ha detto ma cosa è successo? Ma come cosa è successo? È successo il libro è andato ad esaurito solo questa notte, la prima stampa è andata ad esaurita? Insomma, una grande sorpresa, sono stato veramente molto molto contento, anche come vi dicevo abbastanza stupito da questo successo e quindi speriamo poi che prosegua e che questo grande viaggio poi continui. Certo, io poi Francesco ho anche l'impressione che il successo di questo libro sia dovuto anche al particolare momento storico che stiamo vivendo e mi riferisco ad esempio al Green Pass e alla sua possibile evoluzione per il controllo delle persone, oppure al debito pubblico che aumenta le minacce di tasse patrimoniali, oppure anche, mi viene da dire, ai problemi della privacy sui social media, eccetera, giusto? Assolutamente, poi ne parleremo in maniera approfondita di questi argomenti, vi racconterò un po' appunto di questa grande disillusione che stiamo vivendo relativa alla democrazia, credevamo che la democrazia forse fosse qualcos'altro, invece vale la pena tirare una riga e cercare di rimettere un po' insieme i pezzetti del puzzle per capire esattamente in che sistema viviamo. E credo di sì, credo che il particolare momento storico abbia in qualche modo aiutato questo libro, che è un manuale pratico, è un manuale per scomparire dal sistema, per mettersi al sicuro, metterlo al sicuro i propri averi, i propri dati, muoversi in maniera anonima, muoversi in maniera anche protetta sui social, anche comunicare verbalmente in modo invisibile, quindi ci sono tantissimi aspetti, ne partiamo poi questa sera a profondità. Senti, Francesco, mi viene in mente in questo momento, tenendo il tuo libro in mano, come è nata l'idea di scrivere questo libro? Eccolo qua, faccio un gioco nuovo, tra l'altro una bellissima copertina, eccolo qua, prego. Si vede, si vede, in questi anni, da quando ho aperto il mio blog smettere di lavorare.it, che quest'anno compie dieci anni ormai, ho ricevuto tante email di persone che mi hanno in qualche modo raccontato le loro storie, soprattutto le loro storie di cambiamento, no? Perché io vengo da un grande cambiamento, una vita da lavoratore, poi mi sono licenziato, ho iniziato a vivere senza lavorare, in un piccolo paesino di montagna, di autoproduzione, tagliando la linea nel bosco, tutte queste cose che racconto nel mio primo libro. E ho raccolto un sacco di storie di persone che erano sostanzialmente nei guai, avevano problemi di vario tipo, erano timorose del futuro, insomma, mi domandavano sempre un consiglio su come fare. Mi sono accorto davvero che per il semplice far parte della società, del sistema in cui viviamo, curiamo dei rischi, curiamo dei pericoli, che sono tipicamente dovuti alla complessità della società, ai complessi meccanismi. In un certo senso è quasi come se la società ci fosse rivoltata contro da certi punti di vista. Un giorno chiacchieravo con un mio amico che è proprio uno di quelli duri e puri che vive sulle montagne in una baia costruita di pietre, fatta di pietre, e mi ha detto, sai, io da quando ho cambiato la mia vita sono invisibile, mi ha detto. E allora lì ho capito che potevo mettere insieme, mi ha proprio regalato così una chiacchierata questo titolo, no? E ho capito che potevo mettere insieme tutta questa esperienza che avevo fatto negli anni, di aiuto anche nei confronti delle altre persone, e capire come si può, ecco, diventare invisibile al sistema, non farsi prendere dai suoi tentacoli quando diventa troppo invadente, o quando siamo vittime di soprusi, o quando abbiamo dei problemi molto grandi. E così ho messo insieme un po' tutta questa esperienza, gli ho dato un filo logico, ho cercato di costruire un manuale pratico per imparare a diventare invisibili. E è molto interessante perché si può scegliere, poi ne parleremo approfonditamente, quanto anche diventare invisibili, no? Non è necessario sparire completamente, si può anche scegliere di mettere al sicuro solo alcune parti della propria esistenza. Bene, grazie, eccolo qua il libro, se volete lo potete acquistare sul Giardino dei Libri www.ilgiardinodellibri.it e per questa sera avrete anche le spese di spedizione gratuite. Eccolo qua, facciamo rivedere. Prego Giulia. Bene, ora voglio presentare Francesco a tutti i partecipanti. Francesco Normanni è uno dei maggiori rappresentanti italiani del Movimento per la Semplicità Volontaria, vive senza lavorare da molti anni, andando infatti nella direzione opposta suggerita dai guru del business e del marketing, ovvero allontanandosi dal denaro, dal successo e vivendo al di fuori degli schemi imposti dalla società. Fino a qualche anno fa infatti era un comune impiegato e dopo essersi licenziato e aver messo in pratica tutti i suggerimenti che sono contenuti nei suoi libri. Oggi vive tra l'Italia, come ci ha detto anche stasera, e le isole Canarie, coltivando la sua grande passione per la scrittura e per la musica. Francesco, vuoi aggiungere qualcosa alla tua biografia? Ma sostanzialmente no, hai detto tutto e ti ringrazio tanto Giulia. Mi fa anche piacere questa cosa che hai citato appunto del Movimento per la Semplicità Volontaria, che è un tassello fondamentale perché è un movimento che abbiamo creato, un gruppo che abbiamo creato, un po' capitanato ecco da tutti i social che girano intorno a questo nickname che uso su internet che è smettere di lavorare, dove cerchiamo di dare dei principi di vita che aiutino le persone a vivere in maniera più semplice, più tranquilla e quindi più lontana, distaccata dal denaro e quindi in generale più felice. Va bene. Volevo infine ricordare a tutti i partecipanti, volevi aggiungere qualcosa? No, 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 no. Ok, perfetto. Volevo ricordare a tutti i partecipanti che se volete potete fare delle domande direttamente a Francesco, inerenti all'argomento della strada. Infatti sullo schermo nella parte a destra troverete una chat dove potete scrivere tutte le vostre domande e Francesco risponderà alla fine del suo intervento. Quindi ora lascio la parola a te Francesco e ti ringrazio. Intanto noi stiamo dietro le quinte che vedo che stanno già arrivando alcune domande per te. Ci vediamo dopo il tuo intervento Francesco. Va bene. Grazie mille allora per questa bellissima introduzione. Io farò una chiacchierata con voi carissimi amici di una quarantina di minuti. Vi racconterò un po' cosa si intende per invisibilità e quali sono i motivi per i quali è importante oggi imparare a diventare invisibili. Non sono temi secondo me che in particolare in questo momento storico possono essere trascurati. Sono temi che devono essere conosciuti. E quindi chiacchiereremo una quarantina di minuti insieme e parleremo di queste tematiche. Spero sarà un viaggio per voi interessante perché tipicamente sono informazioni e argomenti che non si trovano, non si trovano quantomeno non riassunti in un unico libro, in un unico testo e che aprono un mondo un po' particolare. Allora di certo non vi dirò qualcosa di nuovo se vi dico che viviamo in un sistema nel quale il controllo sociale è di fondamentale importanza. La società in cui viviamo si basa, si fonda sul controllo sociale e anche sulla sorveglianza di massa. A cosa serve questa sorveglianza di massa? Poi vi racconterò, vi farò alcuni esempi per mostrarvi quanto siamo sorvegliati e quanti dati posseggono su di noi e quanto è pericoloso tutto questo. E non lo faremo senza scomodare il complottismo, le tiri del complotto. Vi racconterò semplicemente come funziona lo Stato, e in questo particolare lo Stato italiano, e capirete quanto è profonda la tana del bianconiglia, per citare un famoso film. A che cosa serve questo controllo sociale? Serve soprattutto per mantenere lo status quo, cioè mantenere la società così com'è, il sistema così com'è. Perché questo sistema, il sistema in cui viviamo, ha bisogno che tutti noi restiamo fermi, composti, seduti a produrre, a consumare, a vivere secondo le regole per esistere. E questa cosa ha un senso se ci pensate, perché la società e il sistema garantisce dei vantaggi alle persone in qualche modo, fossero anche banalmente i servizi che abbiamo a disposizione in questo momento. Tuttavia il sistema è molto complesso, è andato via via complicandosi da quando abbiamo fondato poi la Repubblica con la nostra Costituzione. E questa complessità che è fatta di leggi, che è fatta di burocrazia, è finita oggi per diventare una macchina sotto alcuni aspetti addirittura ingovernabile, che rischia di minare la felicità delle persone. In qualche modo ci troviamo a dover sottostare a delle regole, e l'abbiamo anche visto in questo particolare momento di pandemia, che ci possono stare strette. E tutto questo, come vi dicevo, viene messo in campo, viene fatto per controllare le persone e mantenere la società esattamente così com'è. Anche ogni tanto mettendo i piedi in testa alla gente, alla persona singola, che si vede sacrificati i propri diritti per la collettività. Come dicevo, questa cosa può avere un senso. E tutto va bene fino a quando tutto funziona, fino a quando noi viviamo la nostra quotidianità, siamo indaffarati a lavorare, a consumare, a rispettare gli ordini che ci vengono impartiti dai nostri capi. Poi però, quando capita qualcosa di particolare, una guerra, una crisi economica, piuttosto che una pandemia, come in questo momento, quando cioè il meccanismo, gli ingranaggi si inceppano, ecco, emerge tutto il controllo sociale a cui siamo soggettati. E capiamo che questo controllo sociale è enorme, enorme, e che il governo può fare un po' quello che gli pare su quelli che sono i temi principali, i grandi aspetti principali della nostra vita, cioè la libertà, la salute e il denaro. E lo scopriamo, l'abbiamo scoperto di recente con il Green Pass, per esempio, no? Avete visto che abbiamo prima avuto, ancora prima del Green Pass, siamo stati obbligati, e quello che vi racconterò, a prescindere dal fatto che riteniamo giuste o sbagliate queste misure, è solo una constatazione della realtà, ok? A prescindere dallo schieramento, ecco, che possiamo avere in questo particolare momento di difficoltà. Ancora prima del Green Pass, avete visto, siamo stati tutti quanti obbligati a rimanere chiusi in casa, no? Nonostante la Costituzione, all'articolo 13, sancisse in qualche modo che la libertà personale era inviolabile, no? A un certo punto di vista. Eppure in qualche modo hanno trovato un sistema, un stratagemma per tenerci tutti quanti chiusi in casa. E poi abbiamo scoperto anche che, nonostante la Costituzione in qualche modo garantisca il lavoro come diritto universale, articolo 4, un diritto che abbiamo, in realtà poi ci possono privare del lavoro. Non lo possono fare in maniera diretta, avete visto, no? Non possono privarci del lavoro attraverso il meccanismo del Green Pass, però possono aggirare la cosa e dire se non hai questa certificazione ti sospendiamo, non ti togliamo il lavoro perché sarebbe anticostituzionale. Ti sospendiamo e nel frattempo vediamo come vanno le cose. Abbiamo capito quindi che la Costituzione può essere aggirata e non è, se ci pensate bene, se scoprite come funzionano le leggi, come funzionano i regolamenti, come funziona la nostra giurisprudenza in Italia, scoprite che questa cosa non è legata a questo particolare momento di pandemia, perché la Costituzione dice che si possono avere, che lo Stato, il governo può avere dei poteri speciali in casi di guerra. E come hanno fatto allora a avere dei poteri speciali nel momento della pandemia? Dovete sapere che questo particolare momento di difficoltà è considerato tale a livello giuridico da una legge, è stato considerato tale, è creato tale perverso una legge, una legge del 1992 dell'ortezione civile. E questa legge ha trasformato lo stato di calamità da quello di guerra anche a quello di calamità naturale e hanno associato alla calamità naturale anche le pandemie. E quindi sono riusciti attraverso una legge a cambiare qualcosa che era scritto all'interno della Costituzione e in qualche modo aggirarla. Quindi ci siamo un po' disillusi del fatto che la Costituzione ci garantisca una libertà assoluta. Abbiamo capito che attraverso i sistemi di DPCM, attraverso i sistemi illegali si può riuscire ad aggirare un po' questa libertà che la Costituzione dovrebbe garantire e quindi far fare alla gente un po' quello che vogliono. Questo un po' a prescindere dal fatto che sia stato fatto a fin di bene o non a fin di bene. Non è importante questo, stiamo solo constatando come sono date le cose, cioè i fatti. E anche con la salute, noi sappiamo tutti quanti che l'articolo 32 della Costituzione sancisce che il trattamento sanitario obbligatorio non si può fare se non in particolari condizioni, ma in realtà quello che tutti quanti abbiamo accettato, diciamo, il vaccino è stato un trattamento sanitario obbligatorio, non in maniera diretta, non ci hanno direttamente tenuti fermi e iniettato un vaccino, ma ci hanno tra virgolette costretto con degli altri mezzi, tra cui come dicevamo il Green Pass. E quindi anche l'articolo 32 della Costituzione non ci garantisce, non ci salva, non ci tutela come immaginavamo. E poi passiamo, come dicevo, al tasto dolente del denaro, anche per quanto riguarda il denaro, tralasciando il fatto che se non possiamo lavorare appunto non possiamo guadagnare. In passato abbiamo avuto infiniti esempi, ad esempio durante le crisi economiche di prelievi forzati, magari non tutti lo sanno, ma è dal 1920 che si susseguono nel 1926, nel 37, nel 38, nel 40, nel 92, una serie di prelievi forzati ai nostri conti correnti, piuttosto che delle piccole patrimoniali nascoste, fatte per in qualche modo sanare i guai che lo Stato aveva combinato, in altri casi per risollevarsi da guerre che nessuno di noi, poveri Cristi, ha mai voluto. E quindi scopriamo, andando a vedere la storia, come funzionano le cose, banalmente col prelievo forzoso che c'è stato nel 92 con il governo Amato, scopriamo che anche la proprietà privata, i nostri soldi, poi non sono veramente nostri, non siamo veramente tutelati da questo punto di vista. E vi ricordo che durante la pandemia Orfini e Fratoianni avevano proposto un prelievo forzato per sanare le casse dello Stato a fronte della pandemia, ok? Quindi ci siamo un po' disillusi, ecco, questo volevo fare un po' questo, dipingere un po' questo quadro inizialmente per mostrare a tutti quanti come è normale sentirsi un po' in questo particolare momento storico disincantati, no? E ci rendiamo conto quindi che la democrazia in qualche modo non è come l'avevamo immaginata e questo andrebbe anche bene, andrebbe anche bene favorire la collettività, cercare di spingere, di mantenere al primo posto la collettività e quindi la società a scapito del singolo, con delle rinunce del singolo, se tutto questo fosse sempre fatto a fin di bene. Il problema è che noi abbiamo capito in tutti questi anni che se c'è qualcosa che predomina nella società questa è l'economia, questo è il denaro, questo è il business e quando il denaro, l'economia, il business sono al primo posto tipicamente i diritti vengono calpestati, insomma se è l'economia a governare il mondo alla fine è il denaro a governare il mondo e questo tende a portarci verso un sacrificio della nostra libertà e quindi qui si incomincia a intuire l'importanza di mettersi al sicuro, di difendersi, di nascondersi, di diventare irrintracciabili perché se le nostre cose sono nostre e se la libertà è nostra, dobbiamo trovare un modo per preservarla, dobbiamo imparare a in qualche modo proteggerla, ecco questa libertà, mantenerla, combattere per la nostra libertà, diventare invisibili è un ottimo modo per preservare la nostra libertà. Io faccio anche degli esempi per capire la direzione in cui sta andando la nostra società, il nostro sistema a favore dell'economia, magari non lo sapete ma dall'anno prossimo molto banalmente la città di Venezia non sarà probabilmente più accessibile gratuitamente e questo è interessante no? Perché se da un certo punto di vista noi abbiamo questo meraviglioso luogo che il comune in questo caso vorrebbe preservare attraverso far pagare un ticket per entrare nella città di Venezia, dall'altro sappiamo benissimo che questa cosa non disincentiverà gli accessi, anzi le persone continueranno ad arrivare a ondate in questa città e quindi la città non sarà più vivibile di quello che è adesso ma in più ci sarà un guadagno da parte dello Stato. E questo è il business, no? È il business che ci priva di una libertà, la libertà di visitare un luogo meraviglioso gratuitamente a favore del denaro. La stessa cosa capita quando andiamo al mare, no? Perché il mare, per poter accedere al mare noi dobbiamo per forza pagare per entrare in un lido se ci pensate, no? È una privazione della nostra libertà. Sì ci sono le spiagge libere, chiaramente ci sono, ma sono delle fazzolette di terra che sembrano tra virgolette dei ghetti, dove noi ci stipiamo tutti quanti e siamo tra un lido e l'altro e quelli che stanno pagando 30 euro per un lettino ci guardano anche male come se fossimo dei pezzenti. Ma il mare è di tutti, perché bisogna pagare per poter accedere al mare? Perché bisogna pagare per poter accedere alle montagne? Qui nel mio meraviglioso Trentino una volta io andavo in montagna gratis, no? Parcheggiavo il mio vecchio furgone e salivo le montagne. Adesso per parcheggiare devo pagare, devo pagare 5-10 euro, ma le montagne sono di tutti, perché io devo pagare? Quando il sistema si basa sull'economia, quando sono i soldi a fare da padrone, allora le libertà personali vengono limitate e stiamo andando in questa direzione e questo sistema, questo meccanismo si chiama neoliberismo. Noi viviamo in un sistema neoliberista. Allora noi possiamo combattere tutto questo e come abbiamo visto scendere in piazza a protestare non funziona più, no? Abbiamo protestato per il Green Pass, abbiamo protestato per le restrizioni e cosa è successo? A Trieste si hanno impedito di protestare, a Milano bisogna mettere la mascherina anche quando si è in centro storico, così quelli che protestano sono comunque imbavagliati, almeno virtualmente parlando. Abbiamo visto che decidono, possono decidere quando vogliono, che noi dobbiamo in qualche modo dire quali sono i tragitti dei nostri cortei, quando inizieremo, quando finiremo e se non lo denunciamo prima alla questura non possiamo nemmeno protestare, ma quello è un carnevale, non è una protesta. Dunque le proteste di piazza, le proteste di massa non funzionano più. Per cambiare questo sistema, se non ci piace la direzione che sta prendendo questa società, questo sistema in in cui viviamo, dobbiamo imparare, dobbiamo imparare a diventare invisibili, perché se tu sei invisibile, se tu in qualche modo non riesci, non lasci soprattutto agli altri la possibilità di trovarti, di prenderti, di controllarti, di vederti, di impossessarsi delle tue cose, allora tu sarai completamente libero. E sto parlando di una libertà a 360 gradi, ok? E questo lo si comprende quando si comprende che cosa si intende per invisibilità, ok? Noi stiamo parlando di una pozione che beve Harry Potter e diventa fisicamente invisibile, ok? L'invisibilità è un'invisibilità da vari punti di vista e dobbiamo immaginare il cittadino, la persona, ognuno di noi, come un cubo. Questo esempio l'ho fatto più volte durante il tour di questo libro che appena concluso in Italia, quindi non me ne vorranno coloro che sono stati al tour e si sentiranno ripetere questa cosa. Immaginiamo, immaginate le persone, noi tutti quanti, come se fossimo, come dicevo, un cubo, un cubo che ha più facce, no? Si trova ad avere più facce, un cubo tridimensionale. Ecco, se tu vuoi rendere invisibile questo cubo, vuoi in qualche modo farlo sparire, che nessuno lo possa trovare, devi riuscire a rendere invisibili tutte le sue facce, no? Quindi tutte le facce. Questo è interessante perché ogni faccia rappresenta un tipo di invisibilità, ok? Quindi possiamo avere l'invisibilità fisica, l'invisibilità fiscale, l'invisibilità economica, quella legata ai nostri beni, quella legata ad internet, quella legata all'invisibilità verbale, no? Al parlare verbalmente con gli altri in modo invisibile. E una persona può scegliere, può anche scegliere di rimanere, perché magari ne ha necessità, magari anche lavorativamente parlando ne ha necessità, di essere visibile da certi lati, quindi da certe prospettive, o rispetto a certe persone, o rispetto a certe comparti della società, e diventare invece invisibile da altri punti di vista, cioè su altre facce di questo cubo, no? E quindi diventare invisibile dove solo, dove gli interessa. Poi le persone che ne avranno bisogno potranno diventare invisibili completamente. Ma ognuno di noi può attingere e decidere dove proteggersi, sul lato su cui, nella direzione del quale è più esposto, può scegliere di diventare invisibile. Quindi si tratta addirittura di una invisibilità selettiva, no? Ognuno di noi può scegliere a che livello applicare questa invisibilità. E allora, di cosa parliamo esattamente? Cioè, cosa vuol dire rendere invisibile in una faccia del cubo? Beh, immaginate che, vi faccio alcuni esempi, ce ne sono molti in questo libro, e ci tengo a dirlo, è un libro di tecniche per sparire, ok? Non è un libro, non è un romanzo che vi racconto una storiella, sono proprio tecniche per sparire. Non so, vogliamo per esempio far sparire fisicamente, quindi far sparire la faccia del cubo che riguarda la fisicità, la possibilità di rintracciarci fisicamente, allora capiremo come si può cambiare residenza in modo che qualcuno non lo venga a sapere, capiremo come sparire all'estero, capiremo come cambiare la nostra identità, non tutti sanno che si può cambiare addirittura nome e cognome per dei motivi che non sono strettamente, come dire, così, particolarmente forti, ci sono delle sentenze anche legali in passato che lo dimostrano. Possiamo addirittura riuscire a cancellare o a proteggere i nostri dati sanitari e non tutti sanno che si può accedere al nostro dossier sanitario della regione in cui viviamo e proteggere i nostri dati, fare in modo che terzi non possano conoscere i nostri dati sanitari e questo è importante perché ad esempio quando chiediamo un mutuo la banca fa delle ricerche su di noi, sul nostro passato e cerca di capire chi siamo e cosa abbiamo combinato in passato, se siamo stati dei cattivi pagatori, dei buoni pagatori, se abbiamo avuto delle malattie in passato anche, può anche arrivare a questo livello di indagine su di noi, perché se tu hai avuto un problema di salute forse il mutuo non te lo concedo, oppure l'assicurazione, tu vuoi aprire un'assicurazione sulla vita, se hai avuto un tumore magari sei anche perfettamente guarito, però il tuo dossier sanitario dice che sei un soggetto fragile, magari un'assicurazione sulla vita non te la faccio, ecco si possono nascondere questi dati e quindi si può ottenere questa invisibilità fisica, l'ho chiamata invisibilità fisica, che non vuol dire sparire ed essere trasparenti, ma vuol dire essere rintracciabili, da chi dipende, dipende da chi abbiamo bisogno di nasconderci e ci sono vari soggetti, vari punti di vista. Poi c'è questa invisibilità virtuale, può essere un altro lato del cubo, quindi utilizzare i social network in modo anonimo, molti mi dicono ma tu come fai a essere invisibile che sei sui social? Sì, però io sono sui social, ma sono completamente invisibile, se provate a cercare informazioni su di me non trovate nulla, perché c'è modo di essere invisibili pur stando sui social, questa è la grande potenza, la grande forza che ti dà questa sorta di invisibilità. Ci possono cancellare le proprie tracce passate di ciò che si è fatto in passato sui social e quindi fare in modo che nessuno possa scavare attraverso i social network sul nostro passato appunto. Si può telefonare, si può messaggiare in maniera anonima, in maniera criptata. Ci sono tanti trucchetti molto molto interessanti e che si possono applicare anche in maniera molto molto facile. E poi possiamo sparire fiscalmente, cosa vuol dire sparire fiscalmente? Questa cosa del fisco fa sempre un po' paura quando la racconto. Significa capire come funzionano gli algoritmi del fisco, poi vi farò un esempio specifico, come funzionano gli algoritmi del fisco, come incrociano i nostri dati e è possibile che questi algoritmi compiano degli errori e portino delle persone perfettamente oneste verso dei guai, a dover giustificare l'ingiustificabile. Purtroppo è possibile, mi hanno scritto una marea di persone, mi hanno raccontato un sacco di storie di persone perfettamente oneste che hanno avuto dei problemi legati al fatto che questi algoritmi incrociano i dati, funzionano con delle percentuali che riguardano i guadagni, le entrate e le uscite e si chiamano questi algoritmi, scusate, si chiamano redditometro, risparmiometro, quindi misurano quanto spendete, misurano quanto guadagnate eccetera e si può comprendendo come funzionano capire quali movimenti ad esempio non fare in banca quanti soldi prelevare o non prelevare, se spostare del denaro da un conto ad un altro e come mettersi al sicuro da tutto questo, c'è quali tecniche applicare per riuscire ad ottenere questa invisibilità fiscale e poi come si fa a controbattere anche in tribunale anche a suon di documenti la presunzione di evasione che è un sistema che il fisico utilizza giustamente per scovare gli evasori che però appunto presume sempre che il contribuente sia in difetto e che debba essere sempre lui a smontare la cura. Ecco ci sono delle tecniche, ci sono dei modi che si possono mettere in campo e che purtroppo molto spesso coinvolgono anche onesti cittadini che si ritrovano poi a non sapere solitamente cosa fare e quindi poi magari ad inguaiarsi ancora di più perché non sanno come funzionano le cose, combinano dei pasticci ancora più grandi, insomma bisogna sapere come muoversi, questo è importante. Una società, un'azienda che subisce una perquisizione, un accertamento, come si deve comportare, quali sono i suoi diritti, capita no? Può capitare, racconto delle storie in questo libro anche in merito e ci sono delle tecniche per comportarsi, abbiamo dei diritti, possiamo far valere i nostri diritti e questo è molto molto importante perché un piccolo errore può portarti poi a non uscire più da un labirinto micidiale. Chiunque abbia avuto un problema fiscale sa benissimo quanto è difficile proteggersi da tutto questo. Dopo vi racconterò alcune cose ecco da questo punto di vista e poi si possono mettere al sicuro i propri beni, i propri soldi, abbiamo paura di una patrimoniale, c'è un modo, ci sono modi per nascondere i soldi, nascondere tra virgolette, cioè metterli in strumenti finanziari piuttosto che in luoghi o in particolari conti correnti o si possono applicare una serie di tecniche per fare in modo che se lo Stato vuole in qualche modo impossessarsi dei nostri averi, ad esempio attraverso una patrimoniale, questi averi possono in qualche modo essere messi in un contenitore che non è intaccabile, può essere un conto all'estero, è perfettamente legale avere conti all'estero, ci sono addirittura dei casi in cui non è nemmeno necessario dichiarare questi conti in Italia, quindi si può avere un conto all'estero totalmente sconosciuto in Italia ed è, ripeto, perfettamente legale averlo se si sa come muoversi e quei soldi sono molto difficili da trovare, quindi se per caso ad esempio abbiamo paura che ci vengano tolti questi denari, ci sono delle tecniche per portarli via, nasconderli, anche tenendoli in Italia, però facendo insomma una serie di cose che sono consentite a livello economico e a livello legale per evitare che appunto qualcuno possa impossessarsi dei nostri averi. E poi si possono rendere impignorabili i beni, faccio sempre un esempio che è molto divertente, se tu compri una grande croce d'oro, una gigantesca croce d'oro, quella è un oggetto di culto e nessuno te lo può pignorare. Ed è interessante questa cosa perché si può applicare diverse cose nella nostra vita e ci sono delle tecniche per evitare che un immobile ci venga pignorato, un'auto ci venga pignorata, insomma nella vita ci possono avere problemi, mi hanno raccontato storie incredibili di persone che hanno avuto problemi con soci in affari, che si sono comportati male e loro, queste persone pur comportandosi bene, sono state vittime di questi soci ad esempio in affari, in società che in qualche modo hanno combinato dei guai molto grossi e anche loro si sono ritrovati a pagare e ci sono dei casi in cui tu non vuoi pagare per le colpe degli altri e quindi magari vuoi che quello che possiedi sia messo al sicuro, nessuno te lo possa toccare, anche se arrivano questi lunghi tentacoli del sistema che cercano di portarti via le cose, ci sono dei metodi, dei metodi da applicare per riuscire a proteggerci e è tutto legale, io racconto tecniche che sono perfettamente legali all'interno del libro, è solo che tipicamente non sono conosciute perché queste cose vengono, si trovano nei libri di giurisprudenza a livello universitario, si trovano su documenti che sono stati pubblicati sul sito del governo, sul sito dell'agenzia delle entrate, si trovano insomma in posti dove nessuno cerca, sono cose molto noiose anche da leggere che però appunto messe insieme danno una grande visione e creano questo grande potere, potremmo chiamarlo quasi un superpotere che è l'invisibilità e poi ancora una faccia di questo cubo può essere la legge, ci si può difendere legalmente, si può sapere, si può imparare a capire come funzionano gli iter legali, tipicamente noi impariamo come funziona un iter legale solo quando siamo coinvolti in questa cosa, però saperlo prima ci può aiutare a difenderci, ci può aiutare a capire cosa non fare, cosa non dire, anche sui social, anche in una lite con il vicino di casa, anche in una lite con, non lo so, un collega di lavoro eccetera e ci si può difendere dalle accuse false, ci si può difendere dalle sentenze ingiuste, si può riuscire a difendersi anche dai giornalisti, le volte noi vediamo persone che vengono messe alla gogna mediatica, racconto alcuni casi anche nel libro dei reclatanti e quindi la loro vita viene distrutta per poi scoprire che erano perfettamente oneste e non avevano mai fatto nulla di male, ma però ormai la loro vita è distrutta a livello mediatico e la loro reputazione è stata completamente infangata e sapete molto bene che quando questa cosa accade, poi dopo è praticamente impossibile risollevarsi e darsi una ripulita e ritornare ad avere l'immagine che si aveva prima, ci sono dei modi, ci sono dei modi anche per imbavagliare tra virgolette i giornalisti, per fare in modo che non possano parlare di noi, l'importante è conoscere i propri diritti e questo se li si conosce prima, se si sa come agire, si evitano un sacco di guai e si risolvono le cose, allora queste tecniche che possono servire? A chi ha un grosso problema, un grosso problema economico, un grosso problema fiscale, un grosso problema legale e vuole salvarsi, dovete sapere che lo Stato è ben cosciente del fatto che le persone si mettono spesso e volentieri nei guai e molto spesso per ingenuità, per ignoranza se vogliamo e a caso delle leggi, la legge 3 ad esempio del 92 che è stata chiamata legge antisuicidio, salva dal suicidio in qualche modo, che permette se hai un grosso debito di stracciare questo debito e quindi uscirne lì dove magari non vedresti in uscita, vedi tutto grigio e magari pensi addirittura di ammazzarti, se conosci l'esistenza di certe procedure e certe leggi puoi davvero ricominciare una nuova vita se lo sai e solo Dio sa quanti casi ci sono di questo tipo nel mondo. Può servire a chi vuole semplicemente prepararsi perché la vita è piena di imprevisti e non sai mai quello che ti può capitare e quindi se sai come muoverti nelle situazioni, forse anche un banale incidente stradale, sai benissimo come proteggerti e far valere i tuoi diritti se stiamo parlando appunto della sfera legale. E poi può servire a chi vuole sparire, vuole sparire completamente, non vuole più farsi trovare. Un po' come ho fatto io quando ho cambiato la mia vita completamente e sono licenziato, ho dato un taglio totale al mio passato e ho creato una vita completamente nuova. Non c'è quasi più nessun riferimento, non è più possibile trovare nessun riferimento che la mia vita passata perché io ho cambiato completamente la mia vita e sono diventato, ho reso invisibile la mia vita passata. E può essere utile a chi vuole sparire, vuole sparire all'estero, magari vuole andare a vivere, isolarsi, non avere più a che fare con questo sistema, con questa società, può essere utile anche a queste persone qua, l'invisibilità. Tutto quanto quindi, immagino lo avrete intuito ormai, arrivati a questo punto, nasce dai numeri, dai dati, dall'incredibile quantità di dati che esistono, che il sistema ha collezionato su di noi e colleziona su di noi fin dalla nascita. Questi dati rappresentano sì una sicurezza da un certo punto di vista, ma anche un grande problema perché laddove tu sei tracciato, laddove ogni tua azione, ogni tuo movimento, ogni tuo dato, ogni tuo tutto è scritto in un database, su un server, lì è possibile rintracciarti, trovarti, sapere cosa possiedi, eccetera. E come vi dicevo inizialmente, non serve scomodare strane teorie del complotto per capire quanto, quanto sono prepotenti, quanto può essere invasivo e prepotente e pericoloso tutta questa nuvola, potremmo chiamarla, di dati che ci riguarda. E sono davvero tantissimi e ve lo voglio mostrare con un esempio. Io posso prendere un banale smartphone, un telefono cellulare, e sono un normalissimo cittadino, e scattare una fotografia a qualcuno che sta passando per strada, una persona qualsiasi che passa per strada. Non so chi sia, è la prima volta che la incrocio, no? Solo che poi tramite questa fotografia io posso caricarla su Google Immagini, e ci sono anche altri servizi che lo fanno, ma banalmente Google Immagini, e chiedere a Google, Google, trovami delle fotografie simili, similari, che trovi su internet a questa che ti sto dando in pasto, a questa che ti sto facendo vedere, no? E Google ti troverà tutte le foto simili, troverà persone che assomigliano a questa persona, ma troverà anche le foto che questa persona ha caricato sui social. Quindi banalmente, di un perfetto sconosciuto, troverò con grande facilità il suo profilo Facebook, il suo profilo Instagram, anche il suo account LinkedIn, se ha cercato lavoro tramite quel social network, no? E allora cosa posso sapere? Se banalmente trovo il Facebook, ed è molto facile, tutti lo abbiamo, più di 3 miliardi di persone al mondo hanno il Facebook, molto, molto banalmente troverò il suo nome, il suo cognome, la sua data di nascita, il luogo in cui è nato, o comunque il luogo in cui risiede, no? Città, la provincia in cui risiede. Ecco, con questi dati, col nome, cognome, data di nascita e il luogo di nascita, io posso ricomporre il codice fiscale, ci sono dei servizi online, ci sono una marea di gratuiti in cui proprio inserisci questi parametri e ti danno il codice fiscale. Allora voi direte, ma cosa te ne fai di questo codice fiscale? Bene, dovete sapere che con il codice fiscale io posso scaricare un'incredibile quantità di documenti per conto terzi. Fino a poco tempo fa avevano annunciato che l'anagrafe nazionale della popolazione residente, avete visto, no? Che è entrata in vigore il 15 di novembre, permetteva questa cosa online, poi forse siccome questa cosa l'ho un po' raccontata ai 420, io pare abbiano fatto un piccolo passo indietro, ma comunque nessuno ci vieta attraverso il codice fiscale di andare presso il comune e domandare una serie di documenti per quest'altra persona. E si può fare, ragazzi, l'altro giorno ero a colloquio con un assessore per una questione privata e gli ho detto questa cosa, gli ho detto guardi che si può fare, l'assessore mi ha detto no, non si può fare, allora è andato a chiedere ad un segretario e il segretario gli ha detto sì, guardi assessore che si può fare questa cosa, perché si chiamano pubblici registri e quindi per il semplice fatto che ognuno di voi che mi sta guardando in questo momento è registrato all'anagrafe nazionale della popolazione residente, significa che io con il vostro codice fiscale che posso ottenere attraverso questa procedura che vi ho appena illustrato, posso andare a chiedere per conto vostro e avere io, senza che voi nemmeno lo sappiate, una serie di documenti che vi riguardano. E quali sono questi documenti? Il comune mi dirà ad esempio, potrà dare ad esempio il certificato di residenza, quindi io potrò sapere voi dove vivete e quindi l'indirizzo al numero civico. Dunque se questa persona che ho fotografato per strada è una ragazzina che mi piace, ok, io sono un pazzo stalker, posso andare a stalkerarla sotto casa perché so dove vive. È molto importante non avere nessun account social con i propri dati reali, nome, cognome, dato di nascita, è molto importante. Posso scaricare il vostro certificato di nascita, quindi sapere che sono i vostri genitori. Posso scaricare il vostro certificato di matrimonio, quindi sapere con chi siete stati sposati. Posso andare all'ufficio del Catasto e chiedere una visura catastale nominativa per voi, per conto vostro. Quindi posso sapere se è vostra la casa dove vivete e se possedete la casa al mare, in montagna, se possedete un garage, se possedete una soffitta, eccetera. Quindi posso sapere tutto quello che possedete. Posso collegarmi al PRA, il Pubblico Registro Automobilistico, e sapere tutte le auto che avete, tutte le moto che avete e anche conoscere se sono state soggette in passato a firmi amministrativi. Posso, se siete scappati all'estero, collegarmi all'Aire, a una grafica italiani residenti all'estero, e vedere dove siete scappati, perché chi si trasferisce all'estero è obbligato a registrarsi a questo registro, altrimenti non può ottenere una serie di vantaggi. Quindi se per esempio mi dovevate soldi, mi dovevate del denaro, io posso venire a prendervi anche se siete scappati alle Bahamas. Anzi, se mi dovete soldi, io posso andare da un giudice tramite un avvocato e chiedere alla giudice che mi lascia una carta che mi permette di sapere quali sono tutti i vostri conti correnti, sia in Italia che esteri, e sapere quanti soldi avete su quei conti correnti, allo scopo di recuperare il credito che ho nei vostri confronti, cioè il debito che avete nei miei confronti. Quindi io sono un normale cittadino che partendo da una semplice fotografia posso sapere quasi tutto di voi, una marea di cose. E questo, come vi dicevo, è solo ciò che può fare un comune cittadino. Figuratevi, e giustamente anticipo, cosa può fare la polizia, i carabinieri, cosa possono fare il fisco, l'agenzia delle entrate, no? Giustamente perché loro devono trovare i criminali, devono scovare gli evasori fiscali, per carità. Però è importante sapere che ad esempio quando ti fermano in automobile, perché ti domandano la patente? Mica solo per vedere se è scaduta. Inseriscono i vostri dati all'interno di un sistema che si chiama Interforze e vanno a vedere se siete dei criminali, se avete dei problemi con la giustizia, se siete dei ricercati, se avete delle cause penali in corso, se a 16 anni vi siete fumati uno spinello e vi hanno beccato, magari quel controllo che potrebbe essere un normale controllo di routine può diventare una perquisizione all'intera automobile, no? Ad esempio. E il fisco? Dal 2017 il fisco utilizza un sistema che si chiama CRS, Common Reporting Standard, per cui ha obbligato tutti gli istituti finanziari a mandare il 30 di giugno il saldo dei vostri conti correnti, carte di credito, conti all'estero, investimenti al fisco. Quindi il fisco sa sostanzialmente in tempo reale quanti soldi avete in tutti i vostri conti correnti, in tutte le vostre carte di credito, anche nei vostri conti esteri. E cosa fa con questi dati? Ovviamente li incrocia con la vostra dichiarazione di redditi e cerca di capire se quello che voi dichiarate di guadagnare ogni anno corrisponde un po' a quello che avete nei vostri conti correnti e quello che avete in banca. Se qui trovano un misalineamento, chiaramente c'è qualcosa che non va, no? Ad esempio tu dichiari di guadagnare 20.000 euro all'anno, ma quell'anno il tuo conto corrente è lievitato di 30.000 euro e loro ti domanderanno ma quei 10.000 euro in più da dove vengono? Da dove vengono quei 10.000 euro in più? Perché non mi li hai dichiarati nella dichiarazione di redditi? Giustamente te lo domandano perché presumono che sia stato un guadagno che tu non hai dichiarato sul quale avresti dovuto pagare le tasse. Allora tu gli dici ma sono soldi che mia madre mi ha dato perché è andata in pensione e ha preso la buona uscita, ha preso il TFR, no? E loro ti dicono però questa cosa non reggia, io voglio vedere un documento dove tua madre attesta questa cosa. E tu questo documento non ce l'hai e non lo puoi nemmeno fare al volo, sul momento, perché deve avere data certa, deve essere datato al momento del bonifico che ti ha fatto tua madre, che magari è stato 5 anni fa, perché sapete che il fisco può andare indietro di 5 anni a controllare, 10 anni addirittura per omessa la dichiarazione di redditi, quindi bisogna stare molto attenti a sapere come funzionano queste cose. E allora tu dici beh, porterò mia madre in tribunale a testimoniare e dirà lei che questi soldi me li ha imprestati o me li ha regalati perché ha avuto una buona uscita. E non puoi, non puoi perché nel processo tributario non è ammessa la prova testimoniale e quindi sei fregato e quindi a quel punto devi pagare. Non tutti sanno che quando tu vai incontenzioso col fisco per andare in tribunale, tipicamente devi pagare anticipatamente quello che ti domandano, cioè ti contestano ad esempio un'evasione su questi 10 mila euro, un'evasione che magari è di 20 o 25 mila euro perché è maggiorata di percentuali enormi, perché sapete come sono queste multe, sono molto forti, devi pagarli prima questi soldi, dopodiché se vincerai li recupererai, scusate, tra 4 o 5 anni, chi lo sa, tra quanto tempo li recupererai. Dunque bisogna conoscere questi meccanismi, bisogna sapere come funzionano le basi dati, bisogna comprendere come funzionano gli algoritmi, bisogna capire quando la legge, fin dove può arrivare la legge, fino a quando ci si può proteggere, conosci i propri diritti perché abbiamo dei diritti e farli valere è un nostro diritto. Qui si potrebbe andare a parlare ancora più approfonditamente di altre questioni, ad esempio dovete sapere che gli Stati Uniti dopo l'11 di settembre 2001, quindi le Torri Gemelle, hanno istituito un grande software, un grande progetto che si chiama progetto Prism, che raccoglie, teoricamente raccoglieva perché adesso dovrebbe essere stato dismesso, ma dal punto di vista ufficiale, ufficioso, diciamo, si può immaginare che questo sistema sia ancora in atto. E cos'è il progetto Prism? È un sistema che raccoglie informazioni su tutta la popolazione americana al fine di prevenire il terrorismo e invece i seriati americani hanno fatto degli accordi privati con Microsoft, Apple, con Dropbox, con Facebook, con tutti, con tutte le più grandi società di informatica, tutte quelle che vengono in mente sostanzialmente, per avere le mail private, per avere le chat private delle persone, gli sms, le telefonate, hanno costruito delle server farm, che sono delle enormi capannoni con dentro tantissimi computer collegati insieme, grandi come città, dove questi dati venivano incamerati e qualcuno pensa che questa cosa ancora oggi sia attiva, allo scopo di in qualche modo raccogliere una quantità di dati che ne è mai vista prima su ogni cittadino americano, al fine appunto di prevenire il terrorismo, perché se sai tutto di tutti e prendi i dati del social network, dalle basi di dati pubbliche, sai le mail, puoi leggere l'sms, puoi conoscere i contenuti delle telefonate, dei messaggi su whatsapp, dei messaggi su telegram, eccetera, puoi in qualche modo con degli algoritmi capire se qualcuno magari sta preparando un attentato. Questa era la scusa ufficiale di questo grande progetto Prism che hanno messo in piedi. In realtà, come ben vedete, si tratta di più grande sistema di controllo di massa di cui oggi conosciamo l'esistenza e lo conosciamo soltanto perché Edward Snowden, magari l'avete ancora sentito parlare, c'è un bel libro e anche un film, è scappato, è scappato con dei documenti, attualmente si trova in esilio, scusate non in esilio, in asilo politico, ecco, mi pare in Russia, era un tecnico informatico dei servizi segati americani e si è accorto di questo grande sistema di controllo di massa, è scappato, perché non ci stava, questa cosa era troppo invadente secondo lui, è scappato con questi documenti e poi l'ha divulgati al mondo. Ci sono i documenti, si trovano online, c'è un grande leak di questi dati, come si dice in gioco, un leak, aver rubato le informazioni e poi mettere a disposizione di tutti, come Wikileaks che abbiamo imparato a conoscere. E questa cosa, se non ci fossero documenti, tutti quanti potremmo dire trattarsi di un grande tiro del complotto, in realtà ci sono i documenti e quindi è tutto perfettamente alla luce del sole. Figuratevi cosa starà facendo la Cina, ad esempio, dove il controllo di massa è addirittura dichiarato, immaginiamo quello che, ad esempio attraverso quei sistemi che avete visto di riconoscimento facciale, piuttosto che di crediti, in Cina danno dei crediti alle persone e in base a come si comportano, o glieli tolgono, o glieli aggiungono, in base a quanto sono dei bravi cittadini e in questo modo riescono a controllare, a tenere buona la popolazione. Immaginatevi quello che la Cina sta facendo invece sotto sotto, che non dichiara. Quindi è evidente che il controllo di massa, e qui arrivo alla fine della nostra chiacchierata, è prepotente, è evidente che la sorveglianza di massa ormai è una grandissima realtà. Come avete visto, anche in Italia, molto banalmente, le nostre basi dati pubbliche che contengono una quantità impressionante e anche spaventosa di dati, possiamo tutti accederci, possiamo tutti farci gli affaracci degli altri, se vogliamo, e ci può mettersi al sicuro, ci può diventare invisibili. A tutto questo si può diventare invisibili. Noi possiamo in qualche modo mettere al sicuro le nostre informazioni, nasconderci, fare in modo che le cose non ci possano essere prese forzatamente, insomma possiamo scomparire. E questo è di fondamentale importanza perché la direzione che stiamo prendendo, la via che stiamo prendendo, ricordando poi quello che vi dicevo inizialmente, cioè il fatto che è l'economia ormai adettare la direzione, quindi è il business, il denaro, e tipicamente quando questo accade, i diritti delle persone vengono calpestati. Siccome la direzione che stiamo prendendo è questa, io penso che sia davvero il caso di imparare a diventare invisibili. Ed è per questo che ho scritto questo manuale, perché volevo dare al mondo, volevo dare alle persone, e sono molto contento che stanno avendo un grande successo, uno strumento di difesa, un'arma. Come tutte le armi, e qui concludo, sono molto consapevole, poi vediamo se ci sono delle domande, delle curiosità, io sto qui ancora un po' di tempo con voi a rispondere. Come tutte le armi, io sono estremamente consapevole che possono essere utilizzate nel bene e nel male, a fin di bene e a fin di male. Ma questo è un'arma culturale, è un'arma di conoscenza. Nel momento in cui voi avete in mano quest'arma, siete voi a decidere come utilizzarla. E quindi sarà la vostra coscienza, sarà la vostra buona fede o mala fede a decidere come voi la utilizzerete. Questo non si può dare la colpa all'informazione o alla conoscenza. È sempre l'uso che noi facciamo delle cose a determinare poi il nostro destino e il nostro futuro. Io vi ringrazio, ho finito di blatterare in questo racconto che volevo fare questa sera. Se avete domande, se avete curiosità, cose appunto, punti su cui non sono stato particolarmente preciso, io sono qui per rispondere a tutto quanto. Bene, allora intanto grazie mille Francesco per il tuo intervento. È stato davvero molto molto interessante. Mi riguarderò poi la registrazione con calma perché mentre parlavi io e Giulia guardavamo le domande e ne sono arrivate veramente tante. Senti Francesco, prima di proseguire con le domande voglio ricordare di nuovo il tuo libro Diventare invisibili, eccolo qua, strategie per sparire fisicamente, virtualmente e fiscalmente. Lo potete acquistare su giardinodei libri www.giardinodei libri.it. Ha ben 237 pagine e scontato costa 12 euro e 26 centesimi. E per questa sera, come dicevo prima, chi acquisterà il libro avrà anche le spese di spedizione gratuite. E poi Francesco, io voglio ricordare anche i tuoi libri che io ho letto perché io ti conosco da tanto tempo attraverso i tuoi libri ed sono questi. Mollo tutto e vado all'estero, eccolo qua, di qua. Poi abbiamo Smettere di lavorare e poi infine Ricco solo risparmiando. Eccolo qua. Ho voluto farli vedere perché sono sempre libri molto interessanti e consiglio alla lettura di questi libri. Bene Francesco sei pronto perché sono arrivate tante 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 domande. Abbiamo un pubblico molto attento e io lascio la parola a Giulia per le prime domande. Sono pronta. Ok, allora partiamo con la prima domanda di Elisabetta che chiede c'è la possibilità di evitare di essere controllata telefonicamente sia nelle mie conversazioni e sia durante i miei spostamenti in treno o con l'auto. Allora sì, telefonicamente dovete sapere che esistono dei software che possono essere installati per evitare che, per fare in modo che le conversazioni siano criptate. Perché tipicamente quando si comunica con altre persone chi vuole controllarci utilizza una tecnica che si chiama la tecnica del man in the middle, l'uomo nel mezzo, per cui si interpone, chiunque esso sia si interpone tra i due interlocutori, capta le comunicazioni. Se queste sono criptate, anche se vengono captate, poi sono indecifrabili. Quindi esistono dei software, ne consiglio qualcuno nel libro. Una piccola dritta per tutti quanti, dovete sapere che ad esempio la messaggistica tramite Whatsapp o tramite Telegram è già criptata, quindi questa tecnica non può essere utilizzata. Quindi tipicamente quando vogliono controllare le nostre conversazioni o fanno degli accordi particolari con Whatsapp e Telegram, oppure proprio ci sequestrano il telefonino. Tutto questo si allude molto facilmente attivando una cosa che non attiva mai nessuno che sono i messaggi effimeri. Se andate anche in questo momento su un contatto, sul contatto di una persona con la quale volete avere delle conversazioni sicure, potete attivare direttamente sulla scheda del suo contatto i messaggi effimeri. Cosa accadrà? Accadrà che dopo un po' di tempo che questi messaggi sono stati recapitati, spariscono e non c'è traccia da nessuna parte, nessun server, nessun telefono. Quindi il passato, le vostre conversazioni passate sono assolutamente irrintracciabili e irrecuperabili. E poi è molto interessante per quanto riguarda gli spostamenti in treno, eccetera. Dovete sapere che per il banale avere il telefono cellulare acceso, senza anche il GPS attivo, banalmente acceso. Voi venite tracciati, quindi in quel caso avete due possibilità, utilizzate una sim anonima quando vi spostate, se ne trovano da acquistare online, ne suggerisco alcune anche nel libro. Quindi sono sim non intestate, per cui venite tracciati sì, però non si sa di chi sono e quindi non si sa chi stanno tracciando. Oppure molto banalmente spegnete il telefono. Il metodo più facile per non essere tracciati è tenere spento il telefono. Ottimo. Perfetto. Francesco chiede, circa il cambiare nome, cambia anche il codice fiscale? Naturalmente. Qui è molto interessante. Quando voi cambiate nome dovete avviare una certa procedura, che spiego molto bene nel libro. Ed è interessante perché ci sono sentenze in passato che hanno permesso a persone di cambiare nome veramente per motivi anche abbastanza replicabili, direi, anche da altri. È molto facile se hai un cognome o un nome che rivela un'etnia piuttosto che è vagamente volgare, è molto facile cambiarlo. C'è che la richiesta di cambiamento venga accolta. Però ci sono molti casi in cui persone hanno cambiato nome e cognome anche per motivi molto più semplici, molto meno credibili, diremmo così. Quindi quasi tutti lo possono fare. Naturalmente poi quando tu cambi nome ti aggiornano i documenti, quindi tu otterrai dei nuovi documenti di identità e questa cosa è molto interessante perché a quel punto solo due basi dati si aggiornano in automatico, che sono quella del comune e quella della gestione delle entrate. Tutte le altre basi dati, e questa tecnica si chiama, è una tecnica che riguarda lo sfruttare la mancata interconnessione tra le basi dati, tutte le altre basi dati rimangono non aggiornate, rimangono legate al vecchio nominativo e ai vecchi documenti di identità. E questo è molto interessante perché se qualcuno vi cerca, vi continuerà a cercare con dati vecchi e quindi non vi troverà. Ok. Andiamo avanti con Andrea che chiede ma se le tecniche per sparire ai vari livelli sono descritte nel libro, il sistema le può conoscere e adottare anche delle contromisure? Il sistema già le conosce perché queste informazioni non sono segrete, sono informazioni che esistono come dicevo già sui libri di giurisprudenza, di economia, sui documenti. Il punto è che sono dei diritti che abbiamo e quindi in qualche modo possiamo far valere questi diritti, utilizzare questi trucchetti tra virgolette che però fanno parte appunto dei nostri diritti che molto spesso non vengono conosciuti, non sono noti e che non possono essere cambiati perché fanno parte della legge, della Costituzione e poi in più quelli che potrebbero essere cambiati resteranno validi ancora per moltissimo tempo perché il nostro sistema banalmente burocratico è un sistema pachidermico che impiega anni a cambiare e bisogna cambiare le leggi, in alcuni casi bisognerebbe addirittura riuscire a cambiare la Costituzione in alcuni casi e quindi il sistema con grandi difficoltà riuscirà a metterci i bastoni tra le ruote. Bene, senti, proseguiamo con Michele. Si può sparire ma mantenere i legami e gli amici? Dipende come vuoi sparire, quanto vuoi sparire e da chi vuoi sparire, no? Perché se a te interessa sparire, che ne so, dal tuo ex datore di lavoro o non lo so, da qualcuno o da un'ex moglie, ecco, da un ex marito, allora in quel caso sì, tu puoi riuscire a nascondere i tuoi dati soltanto a certe persone, ed è un diritto questa cosa che abbiamo, e si può mantenere i contatti con altre persone, sì. In altri casi no, in altri casi no, perché ad esempio non è legale rendersi irreperibili alle forze dell'ordine, noi siamo obbligati giustamente anche a renderci reperibili alle forze dell'ordine, ed è una cosa che ha perfettamente senso. Quindi dipende molto dal tipo di invisibilità che vuoi ottenere. Ok, Alessia chiede, nel libro vengono spiegate le modalità per diventare invisibile in ogni faccia del cubo? Assolutamente sì, ogni capitolo del libro potete considerarlo come una sorta di faccia del cubo, ci sono questi macro capitoli che contengono poi dei sotto capitoli, e quindi contiene per ogni livello di invisibilità e appunto grado di invisibilità, c'è una profondita spiegazione che riguarda anche ad esempio l'invisibilità verbale, questa non l'ho raccontata, il fatto di ponderare molto bene le informazioni che si concedono agli altri anche nelle banali conversazioni, come comunicare in modo invisibile, anche quali diritti abbiamo, se veniamo interrogati, se ci troviamo in tribunale, quando siamo obbligati a dire la verità e quando no, quando siamo obbligati a fare quello che ci dicono e quando no, perché è importante anche questo, non è sempre detto che tutti sappiano quando sono obbligati a parlare e quando invece non sono obbligati a parlare, e molto spesso quando parli tendi soprattutto di fronte a certe, in certe situazioni tendi a metterti nei guai. Comunque voglio ricordare a tutti quanti che sul mio canale YouTube, Smettere di Lavorare, per tutto il 2022 usciranno dei video di approfondimento su questi argomenti, naturalmente bisogna avere già un'infarinatura di base che è quella del libro per poi poter comprendere tutto questo, e quindi escono dei video di approfondimento e poi il giovedì alle 21 su Twitch, twitch.tv slash Smettere di Lavorare, facciamo delle live dove se volete fare altre domande su un particolare argomento potete venire e interagire in tempo reale e quindi poi andiamo veramente a fondo delle questioni. Andiamo avanti con Consuelo che chiede vorrei sapere se c'è il modo di rimediare i dati che abbiamo già dato in rete negli anni passati. Assolutamente sì, ci sono sia di mezzo di manuali, quindi potete proprio andare a cancellare i vostri dati ad esempio i post che avete lasciato su Facebook, quelli in cui siete stati taggati e quindi su quali non avete più controllo, potete andare a pulirli manualmente, anche Facebook lo permette. Ci sono dei servizi che lo fanno per voi, alcuni sono gratuiti, altri sono a pagamento, quindi inserite i vostri dati e vanno loro in qualche modo a ripulire le vostre tracce. Si può chiedere direttamente a Google, perché abbiamo diritto all'oblio, c'è un diritto all'oblio a livello europeo, quindi possiamo direttamente chiedere a Google che certi articoli ad esempio di giornale che sono presenti su certe testate giornalistiche o su certi blog possono essere rimossi dai risultati di ricerca di Google. Possiamo noi stessi andare a fare una serie di operazioni. Quindi sì, si può sparire, si può togliere e cancellare ogni traccia del proprio passato sul web. Bene, Francesco noi continuiamo con le domande perché ce ne sono tante, come sempre vogliamo accontentare tanti partecipanti, intanto grazie per queste tue risposte che stai dando. Io cerco di rispondere un po' velocemente per poter accontentare tutti, ecco non vado troppo nel profondo. Bene, allora io passo con Sarita, domanda, sim anonima e il telefono spento ti assicura di non essere ritracciati? Allora sì, a meno che tu non sia un mafioso, che allora ti hanno installato una cimice del telefono e allora no, però non penso che sia il tuo caso, ok? Sì, ti assicura perché le sim anonime sono assolutamente, nel momento in cui tu le attivi, non sono riconducibili a te e quindi sono assolutamente, diciamo, invisibili, ecco. E il telefono spento anche perché da spento il telefono non si collega alle celle delle antenne per le telefonate, voi sapete che un anno quando ci spostiamo sul territorio il telefono continua a collegarsi sempre alle antenne che sono dislocate sul territorio, quindi immaginiamoci durante un viaggio, no? Ci continua a collegare e questo traccia una rotta che poi viene registrata sui server di Telecom, di Wind, insomma i vari operatori che ci sono e quindi questa cosa vi traccia, vi traccia anche, come dicevo, se avete il GPS disattivato. E quindi sì, sim anonima e telefono spento rendono totalmente inrintracciabili i vostri spostamenti. Ok, andiamo avanti con Katia che scrive Ho letto una parte del tuo libro e volevo chiederti se le cassette di sicurezza sono sicure nel senso che possono subire dei prelievi forzati? No, nessuno può conoscere il contenuto delle cassette di sicurezza tranne se un giudice lo ordina, lo ordina in maniera diretta ma è molto difficile che questo accada perché non conoscendone il contenuto di solito diciamo quando si cerca di andare a prelevare forzatamente un contenuto si va laddove si sa che esiste un contenuto, ok? Quindi siccome il contenuto delle cassette di sicurezza non è conoscibile da nessuno allora quelle rappresentano già un ottimo posto dove mettere al sicuro i propri dati. Potete sapere che però, ecco questo lo dico per i furbetti, che non gli venga mai in mente di fare i furbetti, l'agenzia delle entrate invece questa cosa la può fare e possono anche sapere tutti i movimenti che avete fatto, quindi tutte le volte che avete avuto accesso alla cassetta di sicurezza. Ok, Sara invece chiede come rendersi invisibili a tutti i call center promozionali che ti chiamano da qualsiasi numero? Allora guarda, secondo me la tecnica più... perché esisterebbero, no? Esisterebbero quei moduli che tu firmi per evitare che ti contattino ma a quanto pare sono poco efficaci. Esistono dei software, dei piccoli software, vi trovate online con una piccola ricerca, cercate su Google ad esempio, non voglio più essere disturbato dai call center, molto banalmente, esistono delle app che potete installare sul telefono che già vi bloccano una quantità incredibile di numeri che sono tra virgolette considerati sospetti, quindi quando i call center non vi chiamano, cercano di chiamarvi, proprio trovano occupato, comunque avete tra virgolette bannati di base, di default. In più vi permettono di aggiungere il numero di telefono a una sorta di black list, per cui se per caso qualcuno riuscisse a eludere questo controllo, aggiungete quel numero con un semplicissimo clic alla black list e quelli non vi possono mai più contattare. Ok, utile anche per gli ex fidanzati. Ok, sempre in merito alla privacy sui social media, Daniela chiede, ma avendo già fatto un account Facebook, non posso più sparire dal sistema o anche qui ci sono trucchetti? No, no, puoi sparire dal sistema, cioè Facebook ti permette di cambiare i tuoi dati, quindi tu puoi crearti dei dati che siano fasulli in qualche modo, ed è concesso, si possono utilizzare nomi di fantasia, non è vietata questa cosa, e poi dopo devi compiere tutte le operazioni di pulizia dei tuoi post pregressi, dei post in cui sei stato o stata taggata. Questa cosa può essere un po' lunga e macchinosa, quindi forse, forse quello che ti converrebbe fare è proprio la chiusura dell'account Facebook, la repertura di un nuovo account con un nominativo di fantasia. Dovete sapere che la chiusura di un account Facebook richiede diverse settimane, cioè nel momento in cui voi date l'ok a Facebook per eliminare tutto il vostro vecchio account, passano diverse settimane. E questo però non pulisce, non pulisce i vecchi contenuti che sono stati in qualche modo incorporati, o i vecchi, cioè il vostro nome rimane ad esempio all'interno dei post in cui siete stati taggati. Quindi dovete fare prima un importante lavoro di pulizia, e la console di Facebook lo promette di fare molto banalmente, ma anche degli altri social network, c'è tutto un modo per pulirli, lo spiego abbastanza bene nel libro come si fa. E poi vi conviene chiudere tutto e aprire un account nuovo e ricominciare da zero con nomi di fantasia, senza caricare le vostre immagini, le vostre foto. A quel punto potete continuare a utilizzare social, ma in maniera totalmente anonima e invisibile. Ok. Ella invece scrive cosa ne pensi del 5G? Può inficiare i tentativi di rendersi invisibili? Allora, da fisico, dovete sapere che io ho studiato fisica all'università, vi potrei raccontare anche tecnicamente esattamente cos'è il 5G, ma è semplicemente un modo di comunicare, utilizzare delle frequenze che sono ad una lunghezza d'onda differenti da quelle che già utilizziamo. Come ben sapete, noi abbiamo già il 2G, 3G, 4G, ok? Per liberare frequenze sostanzialmente per il nuovo digitale terrestre e per permettere l'internet delle cose, l'internet of things, che è la nuova frontiera a cui stiamo arrivando, attraverso la tecnologia, hanno deciso di utilizzare queste onde che sono un po' più corte, che è il 5G. E quindi è solo un metodo di comunicare più diverso da prima, ma nella sostanza non cambia praticamente nulla. Quindi di fatto, se siete in grado di rendervi rintracciabili con le tecniche che riguardano il libro, che parlano principalmente del 4G, lo diventerete anche nei confronti del 5G, perché, ripeto, è solo un protocollo di comunicazione che utilizza onde che sono ad una lunghezza d'onda più corta rispetto a quelle attuali. Va bene, grazie Francesco. Allora, la prossima domanda è di Claudio e chiede come si può diventare invisibili alle centrali di rischio bancarie? Ah, questo è molto interessante, perché dovete sapere che, magari non tutti lo sanno, esiste una incredibile quantità di banche dati che sono queste centrali di rischio bancarie, che raccolgono dati su di noi e quindi poi quando ci devono concedere dei prestiti, eccetera, in qualche modo vanno a scavare nel nostro passato e cercano di capire un po' quello che abbiamo combinato in passato. Allora, qui tutto dipende da quando le cose sono avvenute, perché per una serie di regole, per un po' di tempo, questi dati rimangono all'interno di queste basi dati. Se poi noi non ci attiviamo e non chiediamo che i dati vengano rimossi, questi rimarranno potenzialmente per sempre. Quindi quello che dobbiamo fare è chiedere, chiedere in maniera proprio diretta che i nostri dati vengano ripuliti. Ad esempio, se abbiamo avuto un problema legale o siamo stati dei cattivi pagatori in passato o abbiamo pagato con un assegno scoperto e per questo problema c'è già stato un decorso legale, siamo già stati assolti oppure condannati ed è passato un po' di tempo, a quel punto poi abbiamo diritto a inoltrare una richiesta e fare in modo che da queste centrali di rischio i nostri dati vengano ripuliti. Lo possiamo fare anche, ad esempio, con la fedina penale. Una volta che abbiamo scontato una pena possiamo chiedere che la nostra fedina venga pulita in modo tale che la prossima volta che ci fermano in auto non ci rompano le scatole per qualcosa che abbiamo combinato e perché abbiamo già pagato. Quindi bisogna inoltrare delle richieste attive. Ok? Da questo punto di vista. Ok, la prossima domanda è di Fabio che chiede Ci sono carte prepagate anonime o senza oneri? E schede telefoniche anonime? Schede telefoniche sì, ne consiglio un paio nel libro. In particolare dovete sapere una cosa sulle schede anonime. Per una legge italiana non è realmente possibile avere una scheda completamente anonima. Nel senso che nel momento in cui tu l'acquisti è sì anonima. Però sul sito di chi la produce per poterla attivare devi lasciare lì i tuoi documenti. Questo diciamo la rende non totalmente anonima in pratica. In teoria non è totalmente anonima. In pratica lo è perché se qualcuno volesse mai intercettare le tue chiamate lo farà certamente sul tuo numero di telefono principale. Quindi dovrebbe sapere che tu hai acquistato una SIM anonima, dovrebbe sapere che l'hai acquistata presso quell'operatore, dovrebbe inoltrare una richiesta presso quell'operatore e quindi richiedere i tuoi documenti e quindi puoi mettere sotto controllo quel particolare numero, eccetera. Quindi è molto complicato dal punto di vista pratico. Quindi per dirvi che questa cosa qua non sei al 100% anonimo, ma lo sei al 99,9% perché con una ricerca storica poi sarebbe possibile risalire al fatto che quel numero è tuo. Non sarebbe possibile però ricostruire le tue comunicazioni perché di default gli operatori sanitari, gli operatori, scusate, le telecomunicazioni non registrano le telefonate di tutti, gli SMS di tutti. I telefoni devono essere messi sotto controllo apposta e in un particolare momento. però si potrebbe sapere che quello è il tuo numero e quindi magari risalire a un percorso che hai fatto sul territorio, eccetera. Quindi lo sei al 99,9%. Francesco, ogni tanto ti perdiamo. Nel caso di essere partita nonno. Per quanto riguarda le SIM... Francesco, mi senti? Strano. Ok, adesso ti vedo un attimo. Sì, adesso mi state sentendo? Sì, ok, ti abbiamo perso un attimo. Prego, continua. È stata la linea, forse. Ecco, per quanto riguarda invece le carte di credito, sì, esistono delle carte di credito prepagate che si possono acquistare banalmente in edicola con un credito che voi potete pagare in contanti e quello è un modo per poter trasformare contanti in qualcosa di elettronico e con queste carte di credito poi fare acquisti, ad esempio, su Amazon o online ovunque vi domandino appunto obbligatoriamente la necessità di una carta di credito. Ci sono adesso? Sì, tutto a posto. Ok, ok. Ogni tanto ti perdiamo. Ogni tanto ti abbiamo un attimo. Però adesso ci sei. Sei invisibile. Francesco, ogni tanto sei invisibile. Ti perdiamo. No, continuiamo con le ultime dai che il tempo scorre poi abbiamo ancora tanto da dire per la conclusione di questa bellissima e interessante serata. Andiamo avanti con le ultime domande. abbiamo una domanda di Bella che ti chiede Francesco, tu continui ad avere i documenti di riconoscimento? Se sì, che tipo di documenti? Ma allora, queste sono domande un po' personali che riguardano la mia invisibilità, la mia privata invisibilità alla quale ci tengo molto e la quale si bada su alcuni alcuni punti cardine che devo tenere naturalmente per me per continuare ad essere invisibile. Dovete sapere che purtroppo in passato io ho avuto diversi problemi di stalking soprattutto quando il mio blog il mio blog era diventato molto famoso nel 2015 e quindi ho avuto proprio persone che mi suonavano al campanello di casa e in qualche modo ho dovuto come dire per necessità diventare invisibile. Quindi la mia visibilità me la tengo molto stretta e su certe informazioni non dico niente. Bene. Ci mancherebbe rispettiamo assolutamente. Ok, adesso abbiamo una domanda di Dan che ci chiede gli ETF sono rintracciabili pignorabili e quali altri strumenti finanziari possono essere utili per tutelare le finanze personali? Allora c'è un bel elenco nel libro di quelli che sono gli strumenti finanziari ETF sì perché sono banali i panieri di azioni e quindi non sono in nessun modo soggetti a segreto tra virgolette e quindi sì. Esistono invece come dicevo nel libro faccio una bella lista di tutti quelli che sono gli strumenti finanziari che tipicamente non sono pignorabili esistono invece particolari assicurazioni particolari assicurazioni sulla vita che hanno dei nomi precisi che sono identificati in maniera molto precisa e quando andate presso l'assicurazione ad aprirlo presso la finanziaria ad aprire questa circolazione sulla vita sanno benissimo dirvi quale fare se questo è il vostro scopo che non sono pignorabili da nessuno perché sono considerati uno strumento tra virgolette previdenziale e quindi su questo non ci può mettere le mani nessuno. Dopodiché dal punto di vista ad esempio dipende poi dipende anche dal tipo di invisibilità che vuoi avere ad esempio se vuoi evitare che ti vengano pignorati attraverso una patrimoniale dello Stato devi sapere che i titoli di Stato sono qualcosa che tipicamente non viene pignorato dalle patrimoniali. Altre cose molto molto difficili da pignorare sono i conti correnti all'estero che ripeto ancora una volta lo dico sempre perché sembra che quando si parla di conti all'estero siano cose così nel limbo delle legalità ma non lo sono i conti correnti all'estero sono perfettamente legali dovete sapere che se qualcuno dovesse mai voler ripignorare un conto estero per riuscire ad andare a trovare quel conto all'estero serve una regolatoria internazionale da parte di un giudice che tipicamente si fa per persone che hanno combinato reati molto gravi quindi per gente diciamo ecco per bene non c'è questo problema e i conti esteri sono assolutamente difficili da rintracciare assolutamente difficili da pignorare le cassette di sicurezza l'abbiamo detto anche prima sono un ottimo modo per mettere al sicuro qualcosa ed evitare che quasi tutti possano mantenere e conoscerne il contenuto e poi abbiamo le criptomonete i bitcoin i bitcoin attraverso un particolare procedimento è possibile detenerli in maniera perfettamente anonima e racconto anche nel libro è un processo un po' lungo e tecnico ma si può applicare io ho bitcoin io possiedo numerosi bitcoin non intesi come singolo bitcoin perché sarebbero tanti soldi ho numerosi insomma un po' di denaro ecco in bitcoin e quello è un ottimo modo per tenere i soldi al sicuro bene senti ho scelto un'ultima domanda prima di concludere la serata ma ti ripeto abbiamo ancora un po' di cose da dire a dire allora cosimo domanda come far sparire la suocera la parte di cosmo e vabbè qua scherzosamente te l'ho fatta francesco no vabbè non credo che credo che tu abbia un problema di natura come dire che non riguarda non è una di natura tecnicica ecco credo che sia un problema di natura amoroso questo più che altro sentimentale bene allora va bene Francesco intanto ti ringrazio ti ringraziamo grazie mille per aver risposto a tutte le domande a molte domande anche se ci scusiamo perché purtroppo non siamo riuscite ad accontentare tutti i partecipanti perché le domande erano veramente tantissime abbiamo solo poco più di un'ora a disposizione grazie mille a voi grazie mille grazie a te oltre alle domande sono arrivati tanti tanti complimenti e infatti ci chiedono anche dove possono contattarti e qui mi riallaccio un attimo Francesco scusa a Rosy che domanda è possibile contattarti o se è invisibile noi abbiamo fatto questa slide spero che abbiamo fatto bene cosa ci puoi dire a proposito di questa slide innanzitutto come vedete non c'è il mio nome e cognome da nessuna parte c'è in cima la slide ma puntini puntini dopodiché potete scrivermi a smettere di lavorare punto gmail punto com che è il mio contatto unico principale e lì purtroppo ricevo moltissime email quindi per me è molto difficile rispondere però scrivetemi che io cerco sempre di fare del mio meglio gli altri contatti sono i miei vari social quello su cui sono più attivo è sicuramente youtube e facebook bene io voglio ricordare di nuovo il tuo libro che è in vendita senza logicamente i miei segnalibri in vendita sul nostro sito ilgiardinodeilibri.it ok e per questa sera chi acquisterà il libro avrà le spese di spedizioni gratuite infine se volete vi chiedo di lasciarci un messaggio sulla nostra pagina facebook instagram diteci se vi è piaciuta la serata i vostri feedback sono molto preziosi per noi e ci aiutano a capire se abbiamo fatto bene il nostro lavoro scriveteci che io e il mio staff siamo curiosi di leggervi assieme a Giulia ci fa piacere anche se ci lasciate un commento sotto al video della registrazione che sarà pronta già da domani vi arriverà una mail con il link della registrazione inoltre se vi è piaciuto condividetelo con tutti i vostri amici grazie mille infine vorrei ricordare il prossimo webinar infatti mercoledì primo dicembre sempre alle ore 20 e 30 avremo in collegamento Selene Calloni Williams e il titolo della serata sarà Mudra e meditazioni per viaggiare tra i mondi allora Francesco siamo giunti alla fine tantissimi complimenti ancora tantissime domande scusateci ma abbiamo poco più di un'ora a disposizione dicono grazie ti ringraziano insomma un'informazione totalmente bella dicono allora Francesco siamo giunti alla fine vuoi aggiungere qualcosa come chiusura per i partecipanti che sono ancora tanti online sì allora c'è un grande progetto che stiamo portando avanti che molto rapidamente che si chiama manifesto per la semplicità volontaria lo trovate online lo cercate lo trovate online potete firmarlo e a partire da questo grande manifesto poi io scriverò un nuovo libro in cui parlerò di queste tematiche e tutte le persone che lo hanno firmato questo documento poi verranno citate all'interno del nuovo libro quindi se volete partecipare a questo grande movimento che ha lo scopo di rendere un po' la vita migliore ecco delle persone adesso non entro in dettagli però leggendo il manifesto lo capirete sono certo che lo capirete se volete partecipare in modo attivo a questo manifesto e provare a fare questa un po' la storia del cambiamento la storia della semplicità volontaria in Italia cercate manifesto per la semplicità volontaria su Google potete firmarlo trovate la petizione su change.org e poi c'è il link al manifesto e potete entrare a far parte di questo grande movimento di questo grande cambiamento che stiamo cercando di portare grazie bene Francesco lo faremo sicuramente così sarà anche una nuova opportunità averti nostro ospite qui al Giardino dei Libri con il tuo prossimo nuovo libro sei d'accordo? molto volentieri vi ringrazio tantissimo per la per la bellissima serata bene senti Francesco noi ringraziamo te per essere stato qui anche per noi è stato davvero un webinar denso di informazioni e personalmente mi è piaciuto molto è stata una bella serata io come ho detto prima ho letto il tuo libro qua e lo rileggerò perché stasera hai dato degli ottimi spunti grazie mille grazie mille a voi e speriamo di rivederci presto buonasera grazie a tutti per essere stati insieme a noi grazie a te Francesco come ha detto Rosa anche per me è stato un vero piacere ascoltarti molto interessante e riguarderemo la registrazione assolutamente per cogliere tutti i particolari grazie ancora grazie ancora è stato davvero piacevole stare qui e chiacchierare con voi grazie mille grazie Francesco buona serata a te buona serata a tutti ciao ci vediamo alla prossima ciao grazie Francesco grazie mille grazie a tutti